Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, scusate per il ritardo, ve l'avevo promesso un po' prima, ma sono giustificato perché c'è stato il terremoto a Milano, anzi, il terremoto è stato in provincia di Bergamo, ma si è avvertito anche a Milano, ragazzi, mi sono cagato assolutamente sotto, quindi poi dopo sono uscito per strada, mi sono fatto un giro per evitare di stare chiuso nell'appartamento, adesso sono rientrato e registro con calma questo video, sperando che non accada nulla. Detto questo, ragazzi, bisogna parlare del big match Milan-Napoli, partita importantissima, lo sapevamo che era importante, ho scritto anche un articolo su William Hill parlando di questa partita e ragionavo su quanto possa una partita essere sempre importante, ma avere delle sfumature completamente diverse. Mi spiego, quando un mese fa parlavamo di Milan-Napoli, che ci sarebbe stata prima di Natale, tutti dicevamo cavolo, è una partita importante, così come lo diciamo oggi, chi vince potrebbe allungare e tentare la prima fuga stagionale. In realtà no, ragazzi, nel giro di un mese le cose sono cambiate tremendamente, da che il Milan e il Napoli sono partita bomba, vincendo a destra e a manca. C'è stato un calo di entrambe contemporaneamente, dove hanno perso punti importantissimi su tanti campi, anche contro squadre abbastanza abbordabili sulla carta. E quindi il match di domani resta importante, ma al contrario, nel senso che chi perde adesso rischia di rimanere fuori, o comunque di vedersi complicare la corsa allo scudetto. Anche perché l'Inter galoppa, l'Atalanta galoppa, sta bene fisicamente, ora non so cosa farà l'Atalanta oggi con la Roma. L'Inter ieri ha vinto, ho visto la partita e devo dire che vedendo quest'Inter rosico, non tanto per il discorso, c'è la Noglu, quello sì, mi fa rosicare ovviamente, non tanto per i tre punti di per sé, quanto per il fatto, ragazzi, che gioca bene. Non venite a dire, però era la Salernitana, però era questo, però era quello. Ragazzi, l'Inter gioca bene, ho visto anche la statistica in base ai gol fatti quest'anno solare, e se non sbaglio ha fatto gli stessi gol del Manchester City e qualcuno in meno rispetto al Bayern Monaco. Quindi, ragazzi, una squadra che fa un botto di gol non può essere una casualità, è perché gioca bene. Soprattutto ieri hanno segnato cinque giocatori diversi. Lo scorso anno, invece, sapete che ero il primo a dire, sì, l'Inter di Conte vince, ma non mi fa impazzire, vince tante partite sporche. Adesso, invece, è davvero un'Inter diversa, che ha in mano il gioco, e quando va avanti fa paura, ovviamente. Bisogna dare grande merito, purtroppo, a Simone Inzaghi, che è riuscito a sopperire l'assenza di Hakimi e Lukaku, che erano stati due protagonisti assoluti dello scudetto di Conte. Torniamo a Milan-Napoli. Sono due squadre, ragazzi, che quest'anno sembrano gemelle. Come vi dicevo prima, partite a raggio entrambe. Speriamo che non finiscono a cazzo entrambe. Gli infortuni hanno pesato tanto, pesano tanto, perché anche loro sono senza Koulibaly, Ozymane, Zieninski. Insomma, assenze assolutamente pesanti per il Napoli. Così come ci sono ancora assenze per il Milan. Leao non ha recuperato, Rebic non ha recuperato. Kier, come sappiamo, non ci sarà fino a fine campionato. Giroud è recuperato per la panchina. Speriamo che abbia un po' di minutaggio nelle gambe. E quindi bisogna, ovviamente, sopperire a queste assenze, cercando di dare il massimo. Mi aspetto una partita un po' statica. Nel senso che la posta in palio è altissima. Quindi, secondo me, ci sarà tanta tensione nella partita. E magari le due squadre penseranno più a non subire che a provare a far male. Questa è una mia lettura della partita. Che puntualmente non sarà così, sia chiaro. Però i valori in campo ci sono. La qualità in campo al netto dalle assenze c'è. E quindi, se dovesse sbloccarsi, poi lì mi aspetta effettivamente una bella partita. Pioli mi sa che parla tra poco. Quindi faccio questo video prima che lui parli. Magari dirà qualcosa in più sugli infortuni, eccetera. Quindi qualcosa che dico in questo video potrebbe essere effettivamente inesatta. Il Milan dovrebbe, condizionale, d'obbligo, mai come in questo periodo, giocare con Magnao. Sulla destra, ballottaggio. Io, Florenzi Calunu, mi auguro che la vinca Calunu questa sfida. Perché, so, Florenzi, da che ero anche abbastanza, dico, contento, però fiducioso del suo arrivo. Ha un po' deluso le mie aspettative, diciamo così. Non voglio usare termini troppo forti, però mi aspettavo un po' di più da Florenzi. Mi aspetto un po' di più. Mi aspetto che quando venga chiamato in causa possa farmi ricredere. Coppia centrale, obbligatoria, ragazzi. Tomori, che ovviamente avrebbe giocato a prescindere, con Romagnoli, che quindi torna alla titolarità. In attesa anche di capire cosa succederà, ragazzi, a gennaio col calciomercato. Come vedete, ragazzi, non sto facendo tanti video sul calciomercato, semplicemente perché, non lo so, vedo nomi assurdi accostati al Milan, c'è ancora poca chiarezza e quindi mi sembra inutile farci un video. Però, magari potrei anche dirvi la mia, nello specifico, sui vari giocatori che vengono accostati al Milan. Anche perché non tutti li conosco. Alcuni poi devono anche andare ad informarmi. Sulla sinistra, tornando alla formazione, giocherà Teo. Non mi aspetto che torni il Teo straordinario. Più che altro perché si vede che è davvero, davvero affaticato. Però non abbiamo chi mettere al suo posto e quindi ovviamente deve giocare Teo. In linea mediana, fortunatamente, torneranno i titolari Chessy e Tonali, che ad oggi mi danno davvero molte più garanzie rispetto all'accoppiata Ben Nasser-Bakaioko, soprattutto a causa di Bakaioko. Sulla tre quarti, qui bisogna capire, ragazzi, perché c'è chi dice giocherà Krunic, Brian Diaz e Sallemakers. C'è chi addirittura dice potrebbero giocare contemporaneamente Sallemakers, Brian Diaz e Messias. Non lo so. Sono un po' incerto perché da un lato, c'è da una parte, vorrei ovviamente la seconda opzione. Perché sarebbe un tridente, in quel caso, che dà più sostegno ad Ibra e quindi magari anche Ibra, che sarà la punta centrale, potrà essere sicuramente più incisivo. Detto questo, c'è da dire che se tu ti bruci sia Sallemakers che Brand Diaz che Messias subito, poi non hai chi mettere nel secondo tempo, nel caso in cui servisse la scossa al Milan, non è il termine adatto oggi, servisse quella scossa al Milan. E quindi non lo so, forse nel dubbio farei comunque partire il tridente tosto subito, sperando di poter indirizzare perlomeno la partita. nel verso giusto. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ricordo che la reaction ci sarà su Twitch insieme a Steve. Forse ci sarà anche Dusty, forse avremo anche la componente napoletana nella reaction, non lo so, devo sentirlo. Per adesso è tutto, martedì uscirà Calcio Champagne, settimana prossima usciranno altre challenge con Steve. Stay Brogna e buon sabato. Ciao belli!